In questo numero siamo stati in Francia, nella valle della Morienne, dove abbiamo incontrato cittadini e rappresentanti delle istituzioni impegnati in un dialogo costruttivo con TELT. Abbiamo poi approfondito l'importanza della sostenibilità in tutti i suoi aspetti, dagli acquisti alla responsabilità finanziaria all'ambiente e alla sicurezza. Ci siamo poi spostati a Bruxelles a conoscere chi, in seno alla comunità europea, si occupa direttamente di grandi opere infrastrutturali. Abbiamo anche scoperto come possono essere utilizzate le materiale di excavate dei campi per una strategia innovante e grazie alle tecnologie. Abbiamo fatto un dettaglio di l'art contemporaneo per interrogare la capacità di mettere in in comunicazione le villi, le pop e le culture. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.